Seconde classificate all'Hackathon di Napoli, come si chiama il vostro team? Siamo a Ronimo. Siete un team misto, due scuole, il Giordanistriano e il Vico. Come vi siete trovate a lavorare insieme, anche se non vi conoscevate tutte? Ci siamo trovati molto bene, abbiamo da subito trovato molta musica e poi ci trovavamo sia su te ma anche nel mondo. Ve l'aspettavate di vincere? No, ma sicuramente no, infatti fino all'ultimo pensavamo un massimo faccio delle esperienze. E com'è stato partecipare a questo Hackathon? Avete voglia di partecipare ad altri? Sì, è stata una bellissima esperienza. Perché? Perché comunque abbiamo sperimentato cose nuove, abbiamo fatto cose completamente da sole che non ci saremmo mai immaginate di nuovo. E poi abbiamo imparato diversamente, ci è stata la cosa principale. Allora vi vogliamo in squadra prossimamente come tutor. Ci state? Sì, siamo.